che miracolo mitragliatrice è una delle loro ho finito le munizioni avrai bisogno di un passaggio ho individuato un aereo nemico ehi vedo un ricognitore nemico ehi vedo un ricognitore nemico medico laggiù ehi vedo un ricognitore ehi vedo un ricognitore soldato nemico individuato ehi vedo un ricognitore 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.